Ciao, io sono Valentina, la musifabolista, questo è Letture Viandanti e stiamo per leggere Viaggio al centro della terra da ambiente domestico molto ampio come si sentirà. Capitolo quarantesimo Da quando mi ero messo in cammino ero passato per molte meraviglie, così dovevo credermi a prova di ogni stupore. Tuttavia, alla vista di quelle due lettere incise là da trecento anni, rimasi in uno sbigottimento vicino alla stupidità, e non solo si leggeva sulla roccia la forma del dotto alchimista, ma avevo fra le mani la punta che l'aveva tracciata. Senza una grande malafede non potevo più mettere in dubbio l'esistenza del viaggiatore e la realtà del suo viaggio. Mentre tali riflessioni turbinavano nella mia testa, il professor Lindebrock uscì in un impeto ditirambico all'indirizzo di Arnes Acnussem. «Genio meraviglioso!» esclamava. «Tu non hai dimenticato nulla di ciò che doveva aprire ad altri mortali le vie della crosta terrestre, ed i tuoi simili possono trovare le tracce che i tuoi piedi hanno lasciato tre secoli orsono in fondo a questi oscuri sotterranei. Tu hai concesso ad altri occhi la contemplazione di queste meraviglie. Il tuo nome, inciso di tappa in tappa, conduce diritto al suo scopo il viaggiatore così audace da seguirti. E certo, nel centro del nostro pianeta si troverà ancora scritto di tua propria mano. «Ebbene, anch'io andrò a controfirmare l'ultima pagina di granito, ma d'ora in avanti questo capo visto da te, presso questo mare scoperto da te, sia per sempre chiamato il capo Acnussem!» Ecco quanto udì, oppressa poco, e mi sentì prendere dall'entusiasmo che era in tali parole. Un fuoco interno si riaccese nel mio petto. Dimenticai ogni cosa e i pericoli di viaggio e i pericoli del ritorno. Ciò che un altro aveva fatto anch'io volevo fare, e nulla di ciò che era umano mi pareva impossibile. «Avanti, avanti!» esclamai. E già mi slanciavo verso la tetra galleria quando il professore mi trattenne. Egli, l'uomo degli impeti, mi consigliò la pazienza e il sangue freddo. «Ritorniamo prima di tutto da Hans», disse, «e portiamo qui la zattera!» Obedì non senza dispiacere e corsi rapidamente verso le rocce della spiaggia. «Sapete, zio», dicevo camminando, «che finora siamo stati eccezionalmente favoriti dal caso?» «Ti pare, Axel?» «Senza dubbio!» «E persino la tempesta che ci ha rimesso nel diritto cammino!» «Si ha benedetto l'uragano che ci ha ricondotti a questa costa dalla quale il bel tempo ci avrebbe allontanati!» «Supponete per poco che noi avessimo toccato con la nostra prua, la prua di una zattera, le spiagge meridionali del mare Lindebrock!» «Che sarebbe stato di noi?» «Il nome di Saknussem non sarebbe apparso ai nostri occhi e ora ci troveremmo abbandonati su una costa senza uscita!» «Sì, Axel, vi è qualcosa di provvidenziale in questo che, veleggiando verso sud, noi siamo precisamente tornati a nord e a capo Saknussem. Dico che è più che meraviglioso e che vi è in ciò un fatto la cui spiegazione mi sfugge completamente!» «Che importa? Non tocca a noi spiegare i fatti, ma approfittarne!» «Senza dubbio, ragazzo mio, ma...» «Ma stiamo per ripigliare la via del nord, per passare sotto le regioni settentrionali d'Europa, la Svezia, la Russia, la Siberia, che so io, invece di cacciarci sotto i deserti dell'Africa o i flutti dell'oceano e non voglio saperne di più.» «Sì, Axel, hai ragione. E tutto va per il meglio, poiché abbandoniamo questo mare orizzontale che non poteva condurre a nulla. Stiamo per scendere, per scendere ancora, per scendere sempre. Sai che per arrivare al centro del globo non rimangono che 1500 leghe da percorrere?» «Bah, non è proprio il caso di parlarne. Incamminiamoci.» Questi discorsi insensati duravano ancora quando raggiungemmo il cacciatore. Ogni cosa era pronta per una partenza immediata. Non vi era un bagaglio che non fosse imbarcato. Prendemmo posto sulla zattera e, issata la vela, Hans ci si diresse, seguendo la costa, verso il capo Saknussem. Il vento non era favorevole a quel genere di imbarcazione, perciò in molti luoghi dovemmo procedere con l'aiuto dei bastoni ferrati. Molte volte le rocce, inoltrandosi a fior d'acqua, ci costrinsero a far lunghi giri. Ma infine, dopo tre ore di navigazione, ossia verso le sei pomeridiane, raggiungemmo un luogo adatto all'approdo. Fui d'un balzo sulla spiaggia, seguito da mio zio e dall'islandese. La traversata non mi aveva calmato. Mi proponevo perfino di bruciare la nostra nave per tagliarci ogni ritirata, ma mio zio vi si oppose e io lo trovai stranamente poco caldo. «Almeno, dissi, partiamo senza perdere un momento.» «Sì, ragazzo mio, ma prima esaminiamo questa nuova galleria per sapere se bisognerà preparare le scale.» Lo zio mise in azione il suo apparecchio di Rumorkorf. La zattera, ormeggiata alla riva, fu abbandonata. D'altra parte l'apertura della galleria non distava venti passi e la nostra brigata, con me in testa, vi si recò senza ritardo. L'imbocco quasi circolare aveva un diametro di cinque piedi circa. La tenebrosa galleria era scavata nella viva roccia e accuratamente lisciata dalle materie eruttive alle quali un tempo dava il passaggio. La sua parte inferiore sfiorava il suolo in modo che vi si poté penetrare senza alcuna difficoltà. Seguivamo un piano quasi orizzontale, quando dopo sei passi il cammino fu interrotto da un masso enorme interposto. «Maledetto sasso!» gridai incollerito, vedendomi all'improvviso arrestato da un insuperabile ostacolo. Avemmo un bel cercare a destra e a sinistra, in basso e in alto. Non esisteva passaggio, non biforcazione di sorta. Ero vivamente costernato e non volevo ammettere la realtà dell'ostacolo. Mi chinavo, guardavo sotto il macigno. Nessun interstizio al di sopra, ma sempre la stessa barriera di granito. Hans diresse la luce della lampada sopra tutti i punti della parete, ma non gli riuscì di scorgere alcuna interruzione. Bisognava rinunciare ad ogni speranza di andare oltre. Mi ero seduto per terra. Mio zio misurava a grandi passi la galleria. «Ma allora, Saknusem!» esclamai. «Sì!» rispose lo zio. «Fu arrestato da questa porta di sasso?» «No, no!» ripresi a dire vivamente. «Certo, questa roccia, però per ad una scossa qualunque, o per uno di quei fenomeni magnetici che agitano la crosta terrestre, ha chiuso bruscamente il passaggio. Molti anni sono trascorsi dal ritorno di Saknusem alla caduta del macigno, ed è cosa evidente che questa galleria fu un tempo il cammino delle lave e che allora le materie eruttive vi circolavano liberamente. Vedete, vi sono fessure recenti che solcano la volta di granito, fatta di frammenti di riporto, di macigni enormi, come se la mano di un gigante abbia lavorato a tale costruzione. Ma un giorno la spinta fu più forte, e questo masso, simile a una chiave di volta che ceda, è scivolato fino a terra e ha chiuso ogni passaggio. È un ostacolo accidentale che Saknusem non hai incontrato, e se non lo rovesciamo, siamo indegni di arrivare al centro della terra. Così parlavo. L'ardore del professore era passato tutto in me. Il genio delle scoperte mi ispirava. Dimenticavo il passato, disprezzavo l'avvenire. Non esisteva più nulla per me alla superficie del pianeta, nel cui seno mi ero inavissato. Né città, né campagne, né Hamburgo, né Königstras, né la mia povera Grauben, la quale doveva credermi perduto per sempre nelle viscere della terra. «Ebbene», riprese a dire lo zio, «apriamoci il passo a colpi di zappa e di piccone. Rovesciamo la muraglia». «È troppo duro per la zappa», esclamai. «Allora è il piccone. È troppo lungo per il piccone. Ma...» «Ebbene, la polvere, la mina. Miniamo e facciamo saltare in aria all'ostacolo». «La polvere?» «Sì, non si tratta che du... non si tratta che duri frammento di roccia da spezzare». «Hans, al lavoro», gridò lo zio. L'islandese tornò alla zattera e ritornò in breve con un piccone che gli servì per scavare un fornello di mina. Non si trattava di una fatica da poco. Bisognava fare un buco capace di contenere 50 libri di cotone fulminante, la cui forza detonante è quattro volte maggiore di quella della polvere da sparo. Ero straordinariamente emozionato. Mentre Hans lavorava, io aiutavo lo zio a preparare una lunga miccia fatta con polvere bagnata e chiusa in un budello di tela. «Passeremo», dicevo. «Passeremo», ripeteva lo zio. A mezzanotte la nostra fatica di minatori fu terminata. La carica di cotone fulminante era seppellita nel fornello e la miccia, scorrendo attraverso la galleria, veniva fino all'esterno. Una scintilla bastava ormai a porre in azione quel formidabile congegno. «A domani, allora», disse il professore. «Dovetti rassegnarmi e attendere ancora sei lunghe ore».